Fiera che ho incontrato in Axe, che vi assicuro è uno strumento validissimo e io sono testimone tangibile dai risultati di cui poi ho condiviso anche con Manuel e con Marco, perché Marco prima diceva è fondamentale la trasparenza e la trasparenza è fondamentale, oltre alla nostra professionalità è fondamentale la trasparenza, come si arriva a far capire a un cliente, che cos'è un kilowatt, che cos'è un investimento più che una lavorazione, perché noi siamo sempre soliti ad andare lì per una lavorazione, ma adesso no, se noi siamo lì, investe tutt'altro che installatori, ma in realtà siamo dando un benefit a loro, oltre che la lavorazione che si ripagherà da sola, come si spiega? Facilissimo.